in possesso di pallina sotto per Oscar Ferrari che ha un controllo non facile ancora la conclusione, il tiro nel gol del Vercelli Vercelli in vantaggio con Joao Silva ancora in mezzo per Brusa la conclusione a buon gioco la difesa ospite allora è ancora Diogo Neves che va al gol grande giocata, grande giocata di numero 74 del... e c'è subito il gol di Joao Silva immediatamente il gol del 2-1 per il Vercelli ancora Joao Silva con una bordata dal limite nel tentativo di trovare chiaramente uno spiraglio nella difesa del Bassano chiusa molto bene ancora Balestero dalla distanza gol di David Balestero 3-1 Vercelli Barbieri sulla pallina il tocco con la conclusione ancora il gol il gol di Mattia Baggio per il 3-2 carica il tiro Vittor Crespo al tiro la parata di Ferudo ed è alta la conclusione di Vittor Alex Raffaelli indietreggia non va al tiro il passaggio per Joao Silva ancora Joao Silva il tiro e il gol di Brusa il gol di Brusa gol importantissimo di Brusa adesso il Vercelli è galvanizzato da questo doppio vantaggio Scuccato recupera in mezzo e c'è il gol e c'è il gol di Diogo Neves che rimette